Buongiorno a tutti, mercoledì 11 settembre, altra giornata molto importante sui principali listini azionari europei e americani perché ci sono soprattutto negli Stati Uniti a partire dal 14.30 dei dati macro davvero significativi che vedremo tra poco insieme. Purtroppo nonostante la tenuta degli indici americani, poi vedremo tra qualche istante nel dettaglio le chiusure e sono state chiusure più che dignitose nel contesto in cui stiamo vivendo, i futures seppur è ancora presto, potrebbero ancora cambiare direzione, sono già abbastanza negativi, quindi significa che difficilmente ci sarà un rimbalzo in Europa anche se i futures europei sono moderatamente negativi. In Asia secondo me non hanno fatto bene al mercato le parole del membro del Consiglio della Banca Centrale Yunco Nakagawa che ha affermato che se l'economia continuerà a forzarsi come si prevede l'adeguamento della politica monetaria proseguirà. Penso che il grado di diventamento monetario sarà modificato se le prospettive per l'economia e l'infrazione del Giappone si realizzeranno ed è quello che ha purtroppo causato il sell off devastante del 5 di agosto perché ovviamente verrebbero smontate le posizioni sul carry trade. Il tema però del giorno è stato ovviamente il dibattito per la corsa alla Casa Bianca, c'è questo sondaggio che è uscito dalla CNN per cui il 63% delle preferenze in questo sondaggio indicherebbero vincente Kamala Harris. Trump è stato molto nervoso però credetemi a noi devono interessare poco queste diatribe che sono quasi chiacchiere da bar perché secondo me i mercati se dovesse essere eletta Kamala Harris potrebbero stornare perché anche se solo alzasse la tassazione sulle aziende al 28% comunque una correzione sui principali indici azionari americani sarebbe pressoché scontata. Sapete che c'è quel detto win-win? Ecco, la mia impressione è che chiunque vinca questa volta ci sia loss loss, lo invento io, perché Kamala Harris ha sicuramente un programma economico a mio avviso meno favorevole ai mercati finanziari e per Trump temo la polpetta avvelenata, ve l'ho già detto in tante occasioni, ovvero che tutta la polvere che è stata messa sotto il tappeto negli ultimi 12-18 mesi venga fuori. Partiamo dall'occupazione, io non credo che, io guardo soprattutto le richieste di sussidi continue che rimangano così quasi invariate da agosto 2023 con tutti i licenziamenti che ci sono stati negli Stati Uniti e poi il tema più spinoso a mio avviso che è quello dei finanziamenti sugli immobili commerciali che secondo me al momento è tenuto veramente se vogliamo in qualche scantinato ma se dovesse essere tirato fuori ci sarebbe davvero da preoccuparsi. Però cerchiamo di parlare ovviamente dell'attualità, vi condivido lo schermo, partiamo come al solito dalle chiusure agli indici americani, in questo caso vedete l'ammerino di cui vi dicevo ieri del Dow Jones che rimane a mio avviso l'indice più forte nonostante ieri abbia sottoperformato sia standard.500 che Nasdaq, trading range 42.95, 41.585 massimo storico 30 di agosto. Oltretutto c'è il doppio minimo sporco 42.95, 42.97, 42.95 è 15 di agosto, 42.97 è venerdì e la media mobile a 50 e 42.66 per cui ritengo più difficile che vada a chiudere il gap lasciato aperto sul massimo del 14 di agosto a 40.068. Standard & Poor's 500 quasi una Dragonfly però a mio avviso rimane inserito nel trading range compreso tra 5.402 e 5.552, Nasdaq Composite ugualmente vedete che siamo tra 16.668 e 17.2 e 95, Nasdaq 100 un altro trading range l'ennesimo in questo caso 18.419.102, Russell 2000, alla fine ha chiuso quasi con una Dragonfly dopo un minimo a 2.072, ha chiuso a 2.097, in questo caso il trading range lo identificherei tra il minimo ieri 2.072 e 2.166. chiusura, Fuzzi Min Futures, vedete che purtroppo quell'area 33.900 continua a respingere ogni veleità di rialzo del nostro futures, io come vi ho già detto credo che gli obiettivi siano 32.945, il ritest della media mobile a 200, 32.827, chiusura gap massimo 14 di agosto 32.5 e 35. adesso andiamo a vedere il calendario economico di cui vi dicevo perché ci sono tante situazioni interessanti a partire dai dati molto negativi usciti in UK perché vedete che al di là della produzione settore edile, comunque importante, meno 1,6 dal meno 1 previsto, dati oggettivamente brutti sul PIL perché il mensile invariato da più 0,2, l'annuale più 1,2 da più 1,4, quindi diciamo che anche la Banca of England deve secondo me cambiare marcia e iniziare a tagliare con continuità i tassi e mi sembra che l'unica grande banca centrale mondiale che lo abbia fatto finora è la banca centrale canadese, anche se giovedì la BCE dovrebbe fare un secondo taglio. Poi vedete che tutti questi dati sulla produzione industriale, produzione manufatturiera sono tutti molto negativi e anche il saldo sulla bilancia commerciale, quindi dati in UK veramente brutti. Abbiamo poi questi dati cinesi delle 10 che sicuramente andranno seguiti, non vedo altro di significativo, l'inflazione portoghese viene considerata abbastanza poco, negli Stati Uniti c'è il famoso dato che guardo io quello sui mutui a tasso fisso che è sceso fortunatamente a 6,43% e è un indicatore di dove secondo me andrà la Fed nel senso che era arrivato di recente sopra 7,30, quindi vuol dire che la Fed ha spazio per tagliare da secondo me un minimo di 75 punti base a 100 punti base in tempi ragionevolmente brevi. È una mia personale opinione, ci tengo a dirlo. I dati importanti a cui facevo riferimento sono i dati sull'inflazione, c'è indice prezzi principali al consumo previsto invariato a più 0,2, mentre quello annuale, poi c'è anche quello mensile generico, questo è molto importante perché come previsione un calo evidente, 2,5 a 2,9, questo è importante che non si discosti molto da questo 2,5%. Poi ci sono le scorte di petrolio oggi e mercoledì alle 16,30 e altri dati particolarmente rilevanti direi che non ce ne sono. Vi dicevo dei futures, attenzione perché è vero che come abbiamo potuto verificare poco fa gli indici americani ieri comunque hanno dimostrato sicuramente più resilienza rispetto a quelli europei, però vedete meno 0,34 DAO, meno 0,34 standard per 500, meno 0,41 NASDAQ 100, meno 0,95 Russell 2000. Ecco mi stupisce un po' la sotto performance di breve del Russell 2000 perché per me se la Fed fa il suo dovere e inizia a tagliare seriamente come ho già detto Russell 2000 dovrebbe sovraperformare gli altri indici americani principali. DAX più 0,02, CAC 40 meno 0,04, Eurostox meno 0,13, questa reazione diciamo questa correzione momentanea più contenuta è perché appunto c'è stato un recupero nel finale degli indici americani. Nikkei meno 1%, Hang Seng meno 0,08, Singapore più 0,47, Cospi meno 1,09. Sempre in questi giorni come vi dico sotto mano il calendario CDA, vedete Aeroporto di Bologna, Avio, Beghelli, B-File, Calefi, Celluline, Culti, Elen, Esprinet, Tamburi. Ieri ne sono usciti tanti, abbiamo già parlato di BC Speaker e di TXT che sono stati due bilanci che mi sono, due semestrali che mi sono piaciute, oggi vi ho già caricato Gas Plus che mi sembra abbastanza inquietante come bilancio, l'unico dato realmente positivo è la riduzione del debito di 20 milioni, però passare da, lasciate stare la contrazione perché il gas nel 2023 va raggiunto prezzi molto più alti di attuali, però passare da 39,8 milioni di utili a 5,3 mi spaventa molto come dinamica, probabilmente è per quello che il titolo faceva fatica a ripartire a rialzo, su dati del genere più che un ritorno a 2,65 mi aspetto un ritorno a 2,25, magari erano già scontati questi dati, però mi sono sembrati decisamente negativi. E poi Unidata, per cui tanti di voi mi scrivono anche in privato, bene ma non benissimo, nel senso che non ci sono dei miglioramenti clamorosi, soprattutto fatturato invariato, EBIT che è il margine operativo netto, 7 milioni da 6,3 quindi non pazzesco e c'è ancora un debito da 48,5 milioni che è assolutamente ingestibile perché è praticamente due volte l'EBITDA, quindi comunque di certo non sono dati come quelli di Gas Plus che sono addirittura preoccupanti. Il titolo sembra pronto per un rimbalzo, al superamento di 3,66 può tornare sulla media mobile a 200 che è 3,73, poi abbiamo questo massimo del 28 di giugno 3,78, questo massimo del 21 di giugno 3,81, poi qua c'è un 3,83, quindi mentre su Gas Plus sarei molto cauto Unidata potrebbe essere comprata perché i dati sono sicuramente più che dignitosi. Con questo concluso auguro a tutti buon trading e ci aggiorniamo questa sera dopo la chiusura del mercato diurno. Mi scuso con voi che pubblico sempre molto tardi, però credetemi, chiusa la borsa 17,40, non mi fermo un attimo e spero veramente di riuscire a essere più puntuale perché me lo avete scritto in tanti, in privato e effettivamente sarebbe l'ideale riuscire a farlo almeno entro le 20, come questo video, entro le 8, però sono anche ancora nel mezzo del trasloco per cui probabilmente riuscirò in questa impresa da ottobre in avanti. Ci rivediamo allora questa sera, a più tardi.